Chi è Vilma Goic? La Susanna, grande fratello VIP, marito. Vilma Goic è una delle concorrenti della settima edizione del grande fratello VIP. Cantante di successo e con una carriera lunga 50 anni alle spalle, nella vita è stata legata a Edoardo Vianello. Con cui ha anche collaborato professionalmente formando il duo dei Vianella. Nome e cognome, Vilma Goic. Luogo di nascita, Cairo Montenotte, Savona. Data di nascita, 16 ottobre 1945. Età, 76 anni. Peso, sconosciuto. Altezza, 1 metro e 65 centimetri. Professione, cantante. Segno zodiacale, bilancia. Vilma Goic nasce in Italia, con i genitori di origine croata. Raggiunge il successo in campo musicale negli anni 60 e con il brano Le colline sono in fiore. Insieme all'allora marito Edoardo Vianello forma il duo dei Vianella e insieme pubblicano 12 album. Il duo si scioglie nel 1981, per poi ricongiungersi nel 2014 per pubblicare l'album C'Eravamo Tanto Amati. Negli anni 90 approda in tv nel ruolo di conduttrice e insieme Mike Buongiorno conduce il Quiz Tris. Dal settembre 2022 è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Vilma Goic, negli anni 60, intrattiene una relazione con Teo Teocoli. Finita la storia conosce Edoardo Vianello. Con cui convola a nozze nel 1967. Tre anni dopo nasce la loro prima e unica figlia Susanna. Prematuramente scomparso nel 2020 dopo una lunga malattia. Il matrimonio tra Vilma Goic ed Edoardo Vianello finisce nel 1978. Vilma Goic ha creato il suo profilo Instagram nell'agosto del 2022, probabilmente in previsione della partecipazione al Grande Fratello Vip. Conta pochissimi follower, poco più di 400. Vilma Goic è finita nelle mani degli Struzzini, che ai tempi le prestarono 10.000 euro, con un tasso di interesse del 240%. Goic ha denunciato gli episodi di usura e nel 2014 due coniugi sono stati condannati dal Tribunale di Torino, lui ha una pena di due anni e sei mesi, lei ha due anni e quattro mesi. Nel 1964 partecipa al Festival della Cancion Mediterranea a Barcellona in coppia con Emilio Pericoli. Il duo vince con la canzone di Luigi Tenco Ho capito che ti amo. Giorni dopo la vittoria. Però, un quotidiano spagnolo di allora, e il Correo Catalan, scopre che un mese prima del Festival Tenco si è esibito con la stessa canzone in uno programma della RAI. Il fatto che il pezzo non fosse un inedito non rispettava le regole del concorso. Quindi al duo venne negata la vittoria. Date i framenoscript di vnuscript. Goic ed Edoardo Vianello, il 7 aprile del 2020, perdono prematuramente la loro unica figlia Susanna a causa di un male incurabile. Dopo il decesso, Goic si è presa cura di suo nipote Gian Lorenzo, di 24 anni. Che è andato a vivere insieme a lei. Vilma Goic ha parlato della figlia durante storie italiane. Come Edoardo Vianello, che ha definito la sua perdita un dolore inaspettato. Grazie a tutti.